Maurizio Salera intanto è un piacere conoscerla, non siete neofiti del calcio perché avete portato fortuna al Frosinone il 2015, la promozione in Serie A lo scorso anno avete cominciato il percorso, da quest'anno però sulla maglia Sì, come vi ho accennato precedentemente abbiamo voluto iniziare un piccolo progetto insieme lo scorso anno, più che altro per capirci, per vedere se il Pescara Calcio e quindi il suo staff i dirigenti, il Presidente stavamo sulla stessa onda, come ho detto prima perché noi siamo un po' territoriali, a noi piace sviluppare il territorio e quando diciamo di sviluppare il territorio noi vogliamo capire con chi lo vogliamo fare e veramente abbiamo trovato in questa dirigenza veramente tanto tanto cuore nel credere, nel portare avanti questa squadra del Pescara Quindi terreno fertile è l'humus giusto È l'humus giusto, sì, perché io dico sempre il territorio deve essere amato Il territorio deve essere presenziato e quindi noi abbiamo questa politica come l'abbiamo fatto nella Regione Lazio, l'abbiamo fatto nella Regione Sicilia con una presenza direttamente di nostri dirigenti anche qui in Abruzzo, quindi a Pescara mettiamo dei nostri dirigenti perché vogliamo essere presenti e il Pescara ci ha dato questa grande opportunità e quindi speriamo veramente di stare insieme per tantissimi anni e perché no, di essere l'azienda che porta fortuna Presidente, parliamo di questo nuovo accordo intanto in generale lubrificanti davanti, gas e luce dietro, insomma tagliando completo Ci vuole energia, ci vuole energia e noi quest'anno ci stiamo provando in tutti i modi a trasmettere sulla pelle dei giocatori l'energia giusta per arrivare ai treguardi importanti che ogni anno ci prefissiamo e che tutti quanti i nostri tifosi sognano Com'è nata l'idea? Ma sono rapporti che coltiviamo oramai da tempo perché comunque, come dicevo prima, noi abbiamo un ufficio marketing che sta lavorando veramente molto bene in questi anni da quando abbiamo riportato in casa questo tipo di lavoro abbiamo sempre avuto risultati importanti ogni anno in crescendo e quindi sono molto soddisfatto del lavoro che stanno facendo e come dicevo prima ringrazio per questo i ragazzi che lavorano con me che fanno un lavoro straordinario